Con la chiusura dell'Accademia d'Arti Circense di Verona, in attesa degli sviluppi su questa vicenda, per capire se ci sono sostegni economici e i margini di una futura riappertura, i ragazzi che la frequentano e che vengono da fuori città continuano la loro formazione per finire l'anno scolastico all'Istituto Manzoni. Tra di loro c'è Luca che frequenta la terza media. Sono nato vicino a Milano e sono in Accademia da 4 anni, questo è il quarto anno. In particolare, qual è la tua specialità? Equilibrismo e verticali. Adesso hai trovato accoglienza qui, sei felice di questa possibilità di scuola? Sì, perché abbiamo la possibilità di finire la scuola, almeno se poi si riaprirà l'Accademia, almeno fare il primo anno di superiori e magari continuare online. Ora i ragazzi e le ragazze continuano in modo ridotto anche gli allenamenti nel pomeriggio, nella palestra messa a disposizione sempre della scuola Manzoni, sensibile da anni all'istruzione dei ragazzi dell'Accademia. Il nostro istituto è da quando l'Accademia è qui a Verona, che accoglie i ragazzi in convitto, quindi dalla scuola elementare, di solito quarta a quinta, perché in Accademia cominciano a otto anni e poi finiscono con la terza media. Con la chiusura dell'Accademia la scuola si è data da fare per trovare un convitto alternativo, per permettere ai ragazzi di finire l'anno scolastico. Lo ha trovato all'Istituto Virgo Carmeli, grazie alla sensibilità dei dirigenti e all'aiuto di tanti è stato riadattato il piano più alto dell'edificio che ospita l'Istituto, stanze fino al 2015 utilizzate dalle suore carmelitane. La mamma di due studentesse e istruttrice dell'Accademia vive qui con i 13 ragazzi ospitati e si occupa di seguirli nei momenti extrascolastici. All'inizio, quando abbiamo avuto la notizia che l'Accademia si chiude, i ragazzi si sono attristiti veramente tanto, con lacrime negli occhi, si sono messi un po' tutti da sole, ma poi ho sentito che c'è stato un po' come hanno reagito unendosi. Cioè, questo male l'hanno riuniti con la speranza che andrà tutto per bene ed infatti anche io dopo ci ho pensato che dobbiamo seguire i giovani, che se loro credono che non si sono abbattuti, quindi bisogna pensare in stesso modo come hanno fatto loro, che bisogna sempre credere al migliore. Nel pomeriggio i ragazzi hanno trovato disponibilità da parte di insegnanti del Manzoni che volontariamente li affiancano nel doposcuola, dando loro sostegno per aiutarli nel continuare a credere ai propri sogni. Qual è il tuo sogno per il futuro? Di prima di tutto finire la scuola, poi lavorare nel circo di mio papà e mandare avanti quello che fa lui.